pronto o italiano italiano ciao ciao com'è com'è andata com'è andata la gita in turchia come andata bella e bella istambul madonna ci voglio andare anch'io bella 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 d'essere sì sì bene bene sono contento se tu sia stato bene insomma è stata una bella gita però ora si rientra la base e vabbè dai su e ci sarà un'altra gita dai prossimamente oh senti ti volevo dire una cosa senti c'ho delle delle offerte di lavoro per ragazzi sì 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 senti icone praticamente l'hanno chiamato a raccogliere patate un bel lavorino a due euro l'ora che dici ci parli quel ragazzo secondo me insomma potrebbe essere potrebbe essere un'idea dici accetta sì io speriamo speriamo insomma gli si fa fare la prova ad un mese non pagata poi insomma si vedrà insomma poi senti poi un'altra cosa ma una cosa importantissima questa è la cosa più importante ti volevo ti volevo dire senti hanno hanno chiamato perché praticamente gollini l'hanno chiamato ai provini di x factor il fatto era visto ha fatto la canzone per le canzoni insomma io secondo me li farebbe bene sfonderebbe sfonderebbe di sicuro sì 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 lì sarebbe veramente un trampolino di lancio per la carriera che dici sa sa provare sì io io lo farei sta prova e e poi niente dai ragazzi è stato in questi giorni ci si rivede no si si rivede dalle nostre parti eh buono buono vai 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 va bene va bene ci si ci si sente ok ciao 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 voi che mi dite a caldo a caldo a caldo datemi uno spunto no che ne dite insomma della situazione parliamone parliamone casomai nei commenti tanto posterò il video anche su 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 gruppi facebook parliamone 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 sotto al video che mi raccomando un bel like attivate la campanella seguitemi e commentate commentate sotto il video vedetemi cosa ne pensate dai dai fra amici no se ne ne puoi anche parlare vergogna 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 non c'è aggettivi non c'è aggettivi non c'è aggettivi per definire la partita di stasera grazie io infatti come vi ho detto lascio a voi i commenti commentate commentate allora mi raccomando andate a seguire anche il gruppo fiorentina su facebook poi mi hanno bannato dopo 15 anni la pagina fiorentina senza una motivazione andate a seguirla che è fiorentina 2.0 ok ci sono già 180 persone che seguono nelle 10.000 e passa che c'era nell'altro nell'altra pagina però me l'hanno bannata simpaticissimi insomma e niente voglio sapere da voi tanti bei commenti sulla partita di stasera ok dai io vado a letto anzi non vado neanche a letto perchè c'ho l'incubo e mi metto a vedere un film una serie finchè non svengo un saluto ragazzi buonanotte un saluto da Leonardo ciao